sono qui in questo momento con Christian Kruppi del Mambo partita tirata ve la racconterà lui allora un inizio molto tranquillo da entrambe le squadre cioè praticamente per conoscerci un po' no e da parte loro nel senso più gioco giro palle tutto però pure noi abbiamo tenuto bene fino a primo tempo 1 a 0 o 2 non mi ricordo adesso 2 a 0 e niente secondo tempo vabbè ho segnato è buono 3 a 1 è finita 4 a 1 4 a 1 senti contro chi giocate la prossima contro CSI B-side a fondo toce partita impegnativa l'anno scorso abbiamo già sfidato c'eravano giocati pure playoff e sono andati male però siamo pronti vogliamo portare a casa i tre punti grazie in bocca al lupo per la prossima partita chiaramente ormai sta quasi per concludersi la stagione invernale poi inizieremo a guardare anche la stagione di ritorno avete già in mente allenamenti previsti da fare durante la pausa invernale le momenti probabilmente calcettate o cose varie riprenderemo poi a inizio febbraio andare al campo e riprendere anche in corsa fisici ok noi intanto ti salutiamo e innanzitutto buona domenica